Si è conclusa la fase di ascolto per l'elaborazione della strategia d'area Città-Vallo di Diano. I contributi pervenuti, sia sotto forma di interviste che di questionari, sono stati rielaborati e raccolti in una prima bozza della sintesi integrata delle interviste e laboratorio di ascolto Vallo di Diano. Non si tratta di un documento di analisi, ma di una restituzione il più possibile fedele a quanto ascoltato, e che sarà oggetto di verifica e condivisione con i partner interlocutori. I referenti che hanno curato e seguito la fase di ascolto saranno presenti il prossimo 21 maggio, dalle ore 11.30 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la sede della comunità montana a Padula, per raccogliere eventuali precisazioni sulla prima bozza del documento. Il processo di attuazione della strategia nazionale per le aree interne ha inizio nel luglio del 2014, con l'incontro tenutosi presso la certosa di Padula, con la delegazione tecnica per le aree interne, coordinata dall'ex ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Con la delibera regionale del 18 luglio 2014, il Vallo di Diano viene indicato tra le quattro aree progetto per l'applicazione della strategia nazionale per le aree interne. Il 12 gennaio 2015, con la sottoscrizione del protocollo d'intesa istituzionale di scopo, i sindaci dei 15 comuni del Vallo di Diano definiscono il percorso e i criteri per l'elaborazione della strategia, seguendo il principio della massima partecipazione. Il 28 febbraio 2015 si costituisce a Padula il partenariato locale, città Vallo di Diano. Alla giornata di insediamento partecipano 110 persone, di cui 40 sottoscrivono il documento. In seguito emerge anche la necessità di coinvolgere ancora più direttamente il territorio, indicando interlocutori privilegiati, i cosiddetti innovatori comunali, tre per ogni comune, 45 in tutto. Le attività della fase di ascolto proseguono con l'invio di questionari semistrutturati, utili alla raccolta delle percezioni comuni sulle problematiche locali e sulle possibili soluzioni e sulle proposte di sviluppo, cui rispondono in 53 soggetti, tra innovatori comunali, partner ed altri contributi spontanei. Nelle giornate del 30 e 31 marzo scorso si svolgono presso l'aula consigliare della Certossa di Padula le due giornate di ascolto diretto del territorio. Volendo fare una sintesi, i contributi pervenuti sono 114 tra questionari ed interviste. Considerando che in alcuni casi c'è stata risposta da entrambi, 98 sono i testimoni totali, con circa il 30% di presenze femminili. Il documento scaturito costituisce la prima bozza della sintesi dei contributi raccolti e sarà oggetto di ulteriori interlocuzioni con gli intervistati al fine di una più puntuale verifica, condivisione e validazione dei contributi raccolti.